In questa mattinata di martedì 7 giugno Rossini TV accende le sue telecamere in un luogo molto particolare della città, il cimitero degli animali a Tiguo, al Canile e al Gattile di Santa Veneranda. Cimitero che viveva una situazione di degrado e di trascuratezza che durava da tanti tanti mesi. In questa giornata invece il comune è intervenuto assieme a operatori e cantonieri di Marche Multiservizi con sei uomini che stanno ripulendo completamente tutta quest'area dalla vegetazione selvaggia. Un intervento di ripulitura per ridare dignità a questo luogo davvero ampio in cui ci sono centinaia di tombe di cani e gatti di pesaresi. Un luogo che era diventato praticamente inaccessibile, questa mattina l'erba era praticamente alta un metro e mezzo due in alcune situazioni, mancava totalmente una cura del verde. Oggi si è intervenuto in questo tipo di manutenzione e ne abbiamo parlato con l'assessore comunale Enzo Belloni che abbiamo incontrato a tal proposito. Canile e Gattile, quest'area qui dovrebbero passare da qui a qualche mese in gestione ad Aspes e nel frattempo ci siamo attivati assieme al lavoro dei cantonieri di quartiere. Abbiamo messo sei persone in campo questa mattina per iniziare un lavoro importante di ripulitura che non dovrà essere il lavoro di oggi e poi basta. Ci impegneremo da qui in avanti finché non ci sarà una gestione ben definita di mantenerlo e manutenerlo visto che qui riposano quelli che sono stati gli amici di una vita di tante persone. Oggi è un intervento, una tantum per andare a effettuare un intervento straordinario su una situazione divenuta insostenibile però servirà una programmazione. Ad esempio manca ancora un criterio preciso per la gestione di questi luoghi, per questi servizi degli animali d'affezione che sulla carta dovrebbero passare dalla comune e dai volontari al quale il comune ha affidato i servizi dovrebbero passare a Aspes. Ancora sarà così per tutto il 2022 ma poi questo passaggio andrà effettuato e a tal proposito con l'intervento di oggi chi ha un animale sepolto in questo luogo può venire a trovarlo ma è ancora tutto da strutturare la possibilità di poter effettuare nuove sepolture in questo cimitero così come mancano tante altre cose, ad esempio un catastro degli animali sepolti. Questa è una cosa che dovremmo andare a valutare assieme all'assessore all'ambiente e con l'assessore all'ambiente peraltro abbiamo condiviso questo intervento e poi vedremo in futuro quali saranno gli spazi da dedicare a chi ama gli animali. Grazie